Ieri a Seriate, in provincia di Bergamo, è stato proiettato per la seconda volta il film Unplanned, la storia vera di Abby Johnson. Hanno partecipato circa 400 persone e sono previste nuove proiezioni nei prossimi mesi. Si tratta di un film drammatico americano del 2019, che tratta il tema dell'aborto raccontando la storia di Abby Johnson, che è stata direttrice di una clinica dell'organizzazione No Profit Planned Parenthood in Texas. È stato un momento di gioia, di condivisione, di pienezza. Alla fine del film abbiamo condiviso delle riflessioni sull'argomento, che è un argomento importantissimo, molto delicato e quindi da trattare con la giusta gentilezza. Nei giorni passati ci sono stati anche dei comunicati di alcuni piccoli gruppi che evidentemente non hanno visto il film, che erano un poco critici nei confronti del film. Abby Johnson è stata la direttrice della Planet Parenthood di una delle filiali più importanti, quella del Texas. Lei è una donna che ha sempre cercato di fare il bene delle altre donne, quindi per questo il film è molto ricco, perché la persona Abby Johnson non cambia durante il film. Cambiano le esperienze vissute da lei, quello che lei vede, quello che lei prova. Quindi lei questa sua testimonianza la condivido con noi. Io credo sia molto importante questa sua condivisione, perché è un arricchimento per ognuno di noi.